Ciao Alessia, benvenuti su tutte le interviste, iniziamo con la prima domanda Come ti sei avvicinata al mondo art? Il mio avvicinamento a questo mondo è stata una cosa molto goliardica ero a una fiera simile a questa, per gioco sono stata coinvolta sul palco e da lì è uscita tutta la mia indole esibizionista e mi ci sono lanciata a capofitto E quando è uscito e in quale anno il tuo primo divino? Bestia, allora torniamo indietro, se adesso siamo nel 2011 più o meno considera 2008 E come si chiama il tuo ultimo divino? L'ultimo è Glamour Dolls volume 5, uscito per la Vinko dove sono in copertina ed è uscito proprio fresco fresco di giornata Come ti sembra il mix ex dal tuo punto di vista quest'anno? Ma il mix ex è sempre una bella festa, c'è bella gente Quest'anno dal punto di vista ci sono anche tante belle donne di più che gli altri anni e quindi questo non può che farci contente che anche le donne si avvicinino a questo mondo insomma e capiscano che alla fine non è nulla né di inquietante né di sporco è solo una grande festa Vuoi parlarci del tuo libro Lucia il corpo di Alessia? Allora è un romanzo erotico Premetto che non è un romanzo autobiografico anche se una delle due protagoniste si chiama Alessia non sono io posso dire che ci sono sicuramente delle esperienze di vita personale però molto elaborate molto... E dove lo possiamo trovare? Si può trovare in tutte le librerie si può ordinare tramite internet e se nelle librerie non c'è lo si fa ordinare è edito dalla Vallardi per la collana Tabù Lucia e il corpo d'alentia Ok, ricordiamo anche il tuo sito internet Io per il momento non ho sito internet perché per quanto riguarda un sito legato comunque al porno è un po' complicata la legge quindi mi potete trovare su Facebook col profilo Alessia Donati o Alessia Donati Amici oppure su Maspace Alessia Donati Ma guarda, io sono una che vive giorno per giorno e si arricchisce di quello che ogni giorno le dà valuto tutto quello che mi viene proposto ti dirò potrei puntarti là alla televisione grazie mille un saluto particolare a mattina